No, no, si tagliano. Noi abbiamo fatto un ragionamento, lo sa bene il Presidente Squinzi, Confindustria ha sempre chiesto di tagliare l'IRAP sul costo del lavoro, no? E noi l'abbiamo fatto. Non l'abbiamo fatto perché ci è simpatico Squinzi, con tutto rispetto a me è anche simpatico Squinzi, ma perché siamo, insomma... Però non l'ha fatto per questo, l'abbiamo fatto per un altro motivo, l'abbiamo fatto perché pensavamo che in questa maniera fosse più facile assumere, ok? Grazie.